Applausi, abbracci e tanta emozione, ricordi sono quelli vissuti sul campo con una squadra diventata una vera e propria famiglia. 20 gli anni vissuti con la maglia del Milan, 15 da capitano. Con i rossoneri ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 supercoppe UEFA e 4 supercoppe italiane. Insieme ai compagni Mauro Tassotti, Paolo Maldini e Alessandro Costa Curta ha composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio. Franco Baresi è stato accolto così ieri a Canosa di Puglia, tifosi e simpatizzanti in festa, tutti ad ascoltare i suoi aneddoti di quegli anni di grande emozione, ma anche di tanti sacrifici racchiusi tra le pagine del libro ancora in gioco il viaggio interiore del capitano, con tutte le sue sfide affrontate una alla volta, partita dopo partita, in campo e fuori, nella vita reale, trovando sempre la forza di rialzarsi e di ricominciare. A fare gli onori di casa, il presidente del Milan Club di Canosa, Ivan Matarese e il suo vice, Biagio Germinario, in primo piano una delle coppe dei campioni vinte dal Milan per un evento che sicuramente rimarrà nella storia del Milan Club della Sesta Provincia Pugliese.